Cosa molto importante, vero Davide? Questa tensione! L'importante è il suo esame di maturità Davide Astori, cos'è lo scritto? Scritto, il tema è mercoledì per fortuna Un re di nome? Non si chiedeva il tema sul mondiale, no? No, speriamo Siccome lui si diplomerà a Geoble, Tali Falina suggeriva che lui poi potrebbe progettare insomma un campo da calcio, degli spogliatori, vero Falina? Sì, però più che mercoledì, martedì, gran giorno, che vengono le amiche di Alice Dimentichiamo anche lui così, martedì, si dimentica di andare alla maggiorità Ma Elia e Luca andrete a supportarlo? Sì, sì Se ci ha preparato dei cori, come fate? Contro, però Ma contro Ma contro Esatto, esatto